signora hanks ne ho conosciute di donne come lei con le vostre amiche tutta la moda le case eleganti e l'agenda piena di serate esclusive shopping feste di beneficenza che vi facciano sentire di avere una vita davvero piena ma alla fine non date più attenzione ai vostri uomini che si sentono soli e cercano qualcuno che li faccia sentire di nuovo desiderati e può credermi loro questo lo prendono molto sul serio